Siamo nel monastero di Santa Caterina dove oggi si inaugura la mostra sui bambinelli, un centinaio di pezzi davvero di pregio. Per commentarli abbiamo Padre Bucaro, responsabile per i beni culturali della Curia qui a Palermo. Padre Bucaro, una mostra davvero eccellente. Sì, una mostra particolarmente interessante. Si tratta di circa 100 bambinelli di cera fatta al monastero di Santa Caterina che è il luogo unico. Questo monastero è pieno di tanti lavori di cera anche perché tutte le suore nella propria cella avevano tutte un loro bambinello. Perché? Non per supplire alla mancanza di maternità, esattamente perché il bambinello serviva nella cella perché accompagnava il percorso spirituale della vita della sua ora legando l'incarnazione, il bambinello segno dell'incarnazione di Cristo al momento liturgico. Per cui il bambinello per Natale era addobbato con momenti natarizi, in un altro momento era addobbato con momenti della passione, oppure il bambinello pastorello. Cioè la sua ora all'interno della sua cameretta tramite il bambinello viveva l'incarnazione della vita di Cristo legata al tempo della liturgia. Siamo con il professor Libero Italo Giannola che è l'autore della realizzazione appunto di alcuni dei pezzi di questa bellissima mostra dei bambinelli e ha restaurato anche altri pezzi. Un lavoro certosino, professore. Sì, questa è una passione che io coltivo da una quarantina d'anni circa. Quello che mi fa piacere è restituire alla collettività questa storia lunghissima che in Sicilia ha avuto particolare significato soprattutto in questi reperti votivi, in questi reperti che erano prima in qualche modo legati all'ambiente monastico, eccetera. È una passione che ho avuto. In tutto questo, visto che non è riportato nulla né in letteratura né nella tradizione, la mia professione principale, che è quella di chimico, mi ha aiutato moltissimo nel recuperare questa storia. Un po' per la conoscenza del materiale, un po' per la conoscenza del comportamento dei materiali, un po' per passione. Poi tutto il resto è venuto fuori dopo. Siamo con la professoressa Maria Concetta di Natale, con la quale parleremo del legame di questa mostra con il luogo, con il monastero di Santa Caterina. A Santa Caterina si respira ancora l'aria che respiravano le suore, che per secoli sono state delle figure importantissime per la città di Palermo. Ogni suora aveva nella sua cella un bambinello, a cui era legatissimo. E a questo bambinello si ispira la mostra oggi dei bambinelli di Cera. Questa iniziativa è dovuta a Padre Bucaro, che a Palermo ormai è noto per la sua vivacità intellettuale. E soprattutto l'idea e la realizzazione si deve a due giovani studiose, che sono Nicole Oliveri e Maria Oliveri, due sorelle che stanno dedicando con passione la loro vita, la loro attività lavorativa a questo monastero. Ed ecco così è potuta nascere questa mostra spettacolare, dove i bambinelli vengono da tutta la Sicilia. Sono siciliani, ma anche napoletani, ma in questo spazio ritornano a vivere una vita vera, una vita di amore, l'amore che ricevevano dalle suore. Siamo con Nicole e Maria Oliveri, che hanno allestito la mostra dei bambinelli qui a Santa Caterina. Un lavoro davvero encomiabile, che ha avuto un risultato eccellente. L'idea era quella di fare rivivere la spiritualità monastica attraverso le cere, che era uno degli aspetti essenziali della loro vita, non soltanto dei monasteri femminili, ma anche dei monasteri maschili. Era caratterizzante perché attraverso questi oggetti loro ripercorrevano l'umanità di Gesù e poi erano chiamati a riviverla nella loro vita. È un lavoro che avete fatto con grande passione e che vuole raccontare appunto non soltanto i pezzi bellissimi della mostra, ma anche la vita del monastero. Esatto, e soprattutto la devozione che le monache avevano a questi bambinelli, che era una devozione diffusa in tutta la Sicilia. Probabilmente nell'ambito siciliano, soprattutto delle confraternite, delle chiese, ci sono dei pezzi importanti che sono molto conosciuti perché vengono portati in processione, soprattutto nel periodo natalizio, anche nelle case, perché sono simbolo anche di prosperità e di abbondanza e di benedizione per la famiglia. Meno conosciuti sono i pezzi che si trovano al monastero perché ovviamente era di clausura e quindi nessuno poteva entrare prima che il monastero venisse trasformato in un museo una volta andate via le monache. E poco conosciuti sono anche i pezzi dei collezionisti che con grande entusiasmo hanno aderito a quest'iniziativa e permettono al pubblico che verrà qui alla mostra di conoscere pezzi anche di fattura molto diversa perché non solo vengono da diverse parti dalla Sicilia ma anche incarnano tipologie diverse. Accanto alla tipologia del bambino in fasce, che è forse quella più conosciuta, poi c'è anche il bambino con i simboli della passione, il bambino buon pastore, il bambino pescatore di cuori. E quindi è una mostra secondo me molto interessante perché propone anche un panorama diverso da quello a cui il visitatore è abituato nelle solite mostre a vedere.